Sto sognando casa con dentro la spa, sembra carnevale si pare a popo In questa operazione diciamo che sono stato contentissimo e onorato di partecipare con le musiche e di essere chiamato per un tema così importante Primo red carpet, col cuore che batte fortissimo, sono molto emozionata e soprattutto non vedo l'ora della proiezione E' un film molto buon, è un film importante perché describiamo una situazione con molti ragazzi e abbiamo bisogno di essere attenti Sociale media può essere molto velocemente anti-sociale